Il corso di laurea in economia aziendale permette agli studenti di acquisire solide preparazioni di base sia nell'ambito delle materie professionali, quindi gestionali e amministrative, sia la conoscenza e la padronanza di strumenti matematico-statistici e la conoscenza dei principi del sistema giuridico. Lo studente ha la possibilità di scegliere tra due curriculum, scienze gestionali e amministrative di impresa ed il secondo curriculum economia e management dell'innovazione. Aspetto importante della nostra offerta formativa è la presenza degli stagi che permettono allo studente di avere contatti diretti col mondo del lavoro. Appunto per quanto riguarda l'inserimento del mondo del lavoro dei nostri laureati, i dati Alma Laurea ci premiano. Ho iniziato a studiare economia a Cassino, ho scelto economia aziendale perché è una passione che ho sin da quando ho studiato al liceo classico. Ho scelto di venire appunto qui a Cassino perché l'ambiente universitario che ho avuto in questi tre anni è stato eccezionale dal punto di vista sia nel rapporto umano con i professori e sia per quanto riguarda tutte le materie che sono andato ad analizzare e studiare. Sono rimasto molto affascinato da micro e macro economia ovvero economia politica oppure dall'esame economia industriale del lavoro oppure economia e gestione per le imprese. Ho scelto appunto economia aziendale a Cassino perché il rapporto umano che c'è tra professore e alunno mi ha permesso di affrontare l'università nel miglior modo possibile.